Siamo alla parte finale del derby 2017, i cani qualificati si cimenteranno nei turni di coppia onde verificarne la validità ulteriore. Vediamo adesso come il vento è buono, vediamo adesso come possiamo procedere e terminare queste importanti manifestazioni assieme a tutti i colleghi. Siamo! 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 Tanti cani presenti, 105, se lo sogniamo sui cani richiamati, i cani qualificati, abbiamo avuto un 30% dei cani nella nobria della cazostana, questo valora quanto diceva il Presidente nell'attenzione agli allevatori italiani, perché noi parliamo dell'ente nazionale della cittadina italiana, che è una situazione di allevatori, mi prende in questa occasione, e con un po' di emozione, un amico globalista, Valentini, in punto di morte, sapendo di mancare questo mondo dopo tanti anni, ha fatto fare questo premio, che è un cuore dall'interno da dedicare, all'inizio torna a dedicare, non al miglior cani, quindi l'opportunità di farlo. Un uomo, un uomo, un sportivo, un puntalista, e ha avuto questo grande pensiero. Grazie.